Ale, ma come si fa a prevenire le urgenze? Come faccio ad evitare di avere tutti i casini, tutte le urgenze che mi arrivano oggi? Ecco 5 punti per prevenire, quindi fare tutta quell'attività di quadrante 2 che ti evita di trovarti in crisi domani. Allora, punto 1, fai la lista di tutti quelli che sono i problemi ricorrenti del tuo studio. Punto 2, dividi per priorità, ovvero la priorità in questo caso non è solo l'urgenza, ma è l'importanza di risoluzione. 3, segui il flusso al contrario. Che significa? Significa non iniziare a cercare il perché, ad esempio, si crea quel problema, ma inizia dalla soluzione finale e vai al ritroso. Quindi fai i passaggi dalla soluzione verso la creazione del problema. Questo ti consentirà di osservare le cose in maniera diversa, in angolazioni diverse e soprattutto comprendere dov'è che nel flusso operativo sorgono i casini per cui le problematiche tendono a ripetersi, ripetersi, ripetersi e ripetersi. Quarto punto, una volta che hai trovato il perché chiave, quindi dov'è che il flusso in effetti crea l'urgenza ricorrente, risolvi. Punto 5, a questo punto, una volta che hai capito come risolvere e come prevenire, a destra un tuo collaboratore o più collaboratori alla risoluzione di quel problema. Quindi, 5 punti per prevenire le crisi. 1, lista di tutti i problemi ricorrenti. 2, dividi per priorità importanza. 3, segui il flusso al contrario così da comprendere dov'è veramente il gran casino. 4, risolvi. Punto 5, a destra gli altri alla risoluzione del problema, così che in futuro non debba essere tu a dover fare sempre pompieraggio, ovvero intervenire a spegnere le costanti crisi e quindi costanti incendi operativi. A destra le persone a risolvere i problemi. Non essere tu il jukebox delle soluzioni.